Dal pensiero di San Pio del 21 gennaio Il dio dei cristiani è il dio della metamorfosi Getta nel suo seno il dolore e ne ritira la pace Getta la disperazione e vedrai galleggiare la speranza Questo pensiero è stato tratto dal libro Padre Pio, un pensiero per ogni giorno dell'anno Edito da Shalom